Ci sarà anche un'opera di un'annissena tra le finaliste per la sezione pittura del premio nazionale Fabrizio De Andrè, un olio su tela di Glenda Safonte, una delle dieci opere che verranno valutate dalla giuria, che decreterà la vincitrice del premio durante la finale del 12 gennaio. Cinque anni fa scopro di aver sempre avuto questa passione per l'arte e quindi per la pittura e inizio un po' a studiare quali sono le diverse tecniche e come poter concretizzare un'opera. Così diciamo che mi sono sperimentata mettendomi molto alla prova, sbagliando, ricominciando, vivendo più che altro l'arte come un momento mio intimo, quindi ho iniziato a fare delle opere e a tenerle per me. Però poi ad un certo punto mi sono resa conto che l'arte va condivisa, per cui ho deciso di iniziare dopo un po' di sperimentazione sul campo di mettermi così in gioco nelle manifestazioni artistiche e quindi nei concorsi. E così arriva anche quest'ultima esperienza, la partecipazione ad una manifestazione che punta sulla creatività sperimentale e originalità. Glenda Safonte dunque comincia il suo percorso artistico da sola e dopo pochi anni riesce anche ad ottenere alcuni riconoscimenti. L'artista attraverso la pittura e la scultura trasmette la propria visione, un messaggio, un'idea e soprattutto emozioni, come nel caso di Salvami, l'opera con cui partecipa al premio Fabrizio Di Andrè. Il senso di Salvami è proprio questo, è un'opera che parla sicuramente di solitudine, ma anche di ricerca di aiuto, parla di prigionia ma parla anche di libertà. È una mano che urla nel silenzio e che in qualche modo può essere considerata come la mano di ognuno di noi, non ha un'appartenenza di genere, non ha età, è una mano da sola che fuoriesce dal profondo della terra. Per cui sì, diciamo che è la mano di ognuno di noi e che mai come in questo periodo può essere considerata un urlo di disperazione, una richiesta di aiuto, proprio per riuscire ad uscire da una situazione difficoltosa e problematica come è la situazione di ognuno di noi, perché ognuno di noi è prigioniero dei propri limiti, delle regole che possono essere più o meno condivise.